Ciao a tutti ragazzi, andiamo a vedere l'SBC che è uscita del nuovo giocatore out of position stiamo parlando di Maurito Icardi, giocatore che sappiamo che milita nel Galatasaray quindi abbiamo già qui un campionato non proprio utilizzato però secondo me c'è da valutare ragazzi come sempre, follow canotube mi raccomando e andiamo in game Maurito Icardi è già pronto, perché non mi fa vedere Maurito Icardi? per il coso vado a schiacciare, bellissimo, eccolo qua Maurito Icardi, eccolo qua allora partiamo da un presupposto, non è un giocatore che vi cambierà la squadra, quello sicuramente però Icardi perché è interessante per alcune cose, cose che schifo cose però per alcuni aspetti dedicati non tanto al gameplay ma ai prossimi obiettivi che usciranno ma adesso vi spiego tutto mossa abilità 4 stelle, buono, sicuramente molto buono, il tacco tacco nuovo possiamo farlo piede debole 4 stelle, molto interessante, quindi sicuramente comodo la cosa che un po' mi lascia perplesso è il rendimento, normale, normale in attacco non è che mi piace più di tanto può ricoprire però diversi ruoli a esterno sia attaccante che appunto ala che centrocampista avanzato, quindi abbastanza ibridabile a livello teorico attributi, allora abbiamo una buona velocità 87 per essere un esterno, va bene, 87-87, preciso nella media abbiamo un buon tiro, sicuramente, 85 ma con 86 di media di finalizzazione, quindi sottoporta diciamo che è abbastanza preciso occhio anche alla potenza del tiro che quando prende la porta potrebbe davvero fare qualche danno passaggio 82 se abbiamo una media così bassa è a causa della punizione non batterà mai la punizione per l'amore di dio però il passaggio corto 87 è sicuramente molto buono anche l'effetto e la visione sono sopra l'80 quindi diciamo che la sa mettere, il passaggio sa farlo dribbling 86 con agita 84, che è molto buono anche qui siamo di fronte a un giocatore che è buono non è, ripeto, quel giocatore che vi spacca la partita ma va bene, abbiamo anche un buon controllo palla diciamo che ci siamo, dai, fisico, vabbè, difesa non la calcoliamo fisico, abbiamo una buona forza, 85 allora, facciamo proprio un ragionamento quanto ci costa l'SBC di Icardi? 30k? Ci chiede 2,85 e poi il resto 84 di media però con 2,85 si abbassa quindi ci picchiamo dentro anche degli 83, 82 senza problemi allora, perché vi dicevo, bisogna ragionarci passiamo su Foodbin un attimino allora, su NextGen ricordiamoci che abbiamo gli stili intesa che vanno a modificare lo stile di corsa lui ha controllato, si può andare a mettergli l'architetto gli diamo un bel anti e quindi è contento, lui corre felice nei prati bello liscio e va c'è da tenere sotto anche comunque controllo una piccola cosa non è questo fulmine di guerra però 87 è buono se già Ronaldo con 81, non so, non ricordo male funziona abbastanza bene come tipologia di corsa con lui devo dire che potrebbe essere molto molto interessante ovvio che sono due giocatori diversi non andiamo a paragonare la qualità di CR7 o Holland con Icardi però devo dire che con quel 90 di fisico e 89 di passaggi sinceramente non è niente male poi con il finishing 86 certo non è precisissimo però è buono, sicuramente buono se invece stessi su current gen io direi che Icardi se gioca a titolare gli picchiamo su il classico dove l'ho messo non lo trovo più no ombra no oh non lo trovo incanter cacciatore eccolo qui diventa abbastanza rapido è interessante è il 4-4 quindi buono allora perché sbloccarlo? per un motivo valido a parte che costa poco per 30k sinceramente io li butterei e lo tengo lì nel caso lo butto li butto in qualche sbissino senza problemi però perché io lo sblocco dopo lo faccio sicuramente lo vado a sbloccare per la presenza di questi giocatori dei basi squadra della Liga Turca questo perché è molto probabile che negli foot swap quindi negli scambi con che usciranno molto probabilmente poi quelli anche dei mondiali molto probabilmente ci saranno queste nazioni o campionati da utilizzare per andare a fare delle partite o in battle o in amichevole online per sbloccarci i gettoni quindi ragazzi i card costa poco questi qua sono tutti giocatori gratuiti che comunque fanno comodo un domani per l'SBC fanno comodo ma fanno comodo soprattutto per andare a sbloccare i gettoni degli scambi allora sbloccatevi io piano piano li sto facendo tutti come vedete ho già fatto quello del Portogallo l'ho già fatto adesso sto facendo lui però vi direi che per questo motivo io i cardi lo farei appunto per farmi una squadra per la Liga Turca in modo da essere pronto poi per gli scambi per il resto i cardi è abbastanza insensato come giocatore non è quel giocatore facilmente ibridabile argentino della Liga Turca non è che si vede molto in qualche squadra da meta e non è quel giocatore appunto che dicevo prima ragazzi costa poco fatelo e basta solo per questo motivo che vi ho appena detto se non ve ne frega nulla dagli scambi swap se non vi interessa i cardi se non potete ibridarlo lasciate perdere risparmiate sti non scambiabili sti 30k perché tanto non lo farete mai giocare e fine lasciatelo lì quindi il ragionamento ve l'ho fatto ricapitolando sbloccatevi tutti i giocatori basi squadra della Liga Turca per avere un aiuto in più per gli food swap Zelda hai bisogno non so se è finito non è ancora finito giochi dopo giochi tra poco a Genshin scusate qui abbiamo avuto un'introduzione viene a salutare tutti dai mi raccomando cosa diciamo sempre a fine video fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo giocatore di Mauro Riccardi e noi salutiamo sto guardando dopo giochi a Genshin saluta tutti ragazzi come sempre follower al canale youtube mi piace al video e ci vediamo al prossimo video filmato ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti